Ti ho portato a vedere questo balletto, figliolo, perché lo ritengo istruttivo oltre che dilettevole. Questa prima figura rappresenta l'eterna lotta tra il bene e il male. La dama bianca, la luce che raffigura il progresso, è incatenata dalle forze del male. Ma ecco che spezza le catene. La dama bianca, la dama bianca, la dama bianca, la dama bianca. La dama bianca, la dama bianca, la dama bianca. La dama bianca, la dama bianca, la dama bianca.